Un'anziana ottantenne mentre faceva rientro a casa a bordo della propria autovettura in via Cavour è stata urtata da un altro veicolo da dietro con a bordo una coppia di trentenni, la donna scendendo dal mezzo per scostatare i lievi danni alla propria vettura poco dopo nel fare rientro a casa dopo aver riposto la spesa si è accorta di non avere più in possesso la sua borsa contenente alcuni effetti personali e 200 euro. La donna al momento dell'impatto con l'altra autovettura aveva la borsa appoggiata nel sedile posteriore della macchina e presumibilmente i giovani l'hanno distratta e poi si sono impossessati della borsa. La denuncia è stata presentata all'URP della Questura.